Ancora una scuola dell'infanzia finita in quarantena nel retino, in questo caso si tratta dell'asilo Pianeta Azzurro di Via Tricca. Una misura che è stata adottata per insegnanti e piccoli alunni, 100 in totale, in seguito ad una serie di contagi tra il personale della mensa, nello specifico l'ultima positività ha riguardato il lavoratore addetto allo sporzionamento. Quello che è certo è che gli asili dimostrano con questa ennesima chiusura di essere degli enti fragili, perché non c'è la bolla classe per classe, quindi sono ambienti aperti. E questo è un grosso problema, ma che non abbiamo modo di risolvere. Purtroppo l'impostazione del sistema scolastico è questa e la dimostrazione ancora una volta che le scuole nel loro complesso sono un soggetto delicato dal punto di vista della diffusione del Covid. Non sono i generatori del contagio, ma ne possono diventare recettori come tali e devono essere poi chiuse le classiche. Il provvedimento in via precauzionale è partito lo scorso martedì e per un sospetto caso di variante, l'ASL ha predisposto il protocollo in base al quale tutti potranno tornare a scuola solamente tra 14 giorni. Nessun caso positivo fortunatamente allo stato d'oggi, né tra i bambini né tra i docenti. Si tratta del secondo caso in poche ore in provincia di Arezzo. Sempre martedì era stata infatti disposta anche la chiusura dell'asilo CP di Capolona, dove si erano registrati 17 casi Covid, 13 allunni e 4 insegnanti. Ora però non dobbiamo vedere i bimbi come un freno per le attività. Dobbiamo fare in modo di poterli in qualche maniera aiutare, per cui vedremo se è possibile istituire dei servizi di condivisione dei bambini dal punto di vista che non possono rimanere soli. È evidente però che siccome sono isolati i bambini, questo comporta un problema in più. Grazie. Grazie. Grazie.